Appendice 1. Sulla discordanza tra morale e politica in relazione alla pace perpetua. Non può esistere dunque alcun conflitto tra la politica, in quanto dottrina pratica del diritto, e la morale, in quanto anch'essa dottrina del diritto. Ma teorica, nessun conflitto dunque della pratica con la teoria. Bisognerebbe intendere per morale una dottrina generale della prudenza, una teoria cioè delle massime per scegliere i mezzi più validi per realizzare le proprie intenzioni calcolate sul vantaggio, e cioè negare che esista in generale una morale. La politica dice, siate prudenti come serpenti. La morale aggiunge, come condizione limitativa, e candidi come colombe. Se queste due cose non possono stare insieme in uno stesso precetto, esiste allora realmente un conflitto della politica con la morale. Ma se devono unificarsi totalmente, allora il concetto dell'opposizione è assurdo, e la questione di come si debba risolvere quel conflitto non si pone nemmeno più come un compito. Anche se la massima, l'onestà è la migliore politica, contiene una teoria, con la quale purtroppo la pratica è così spesso in contraddizione, allo stesso modo però l'altra massima, ugualmente teorica, l'onestà è meglio di ogni politica, è infinitamente al di sopra di ogni obiezione, ed è anzi l'insostituibile condizione della politica. Il dio limite della morale non cede terreno a Giove, il dio limite della forza. Questo infatti sta ancora sotto il destino, cioè la ragione non è illuminata abbastanza per cogliere la serie delle cause predeterminanti, che lasciano preannunciare con sicurezza l'esito buono o cattivo del fare e non fare degli uomini, secondo il meccanismo della natura, anche se lo lasciano sperare, secondo il desiderio. Ma cosa si debba fare per rimanere sul cammino tracciato dal dovere, secondo le regole della saggezza, su questo e quindi sullo scopo finale essa dappertutto ci illumina con sufficiente chiarezza. Ora però il pratico, per il quale la morale è semplice teoria, fonda il suo sconsolato rifiuto nella nostra dolce speranza, pur concedendolo come un dovere e un potere, propriamente sul fatto che, partendo dalla natura dell'uomo, pretende di prevedere che non vorrà mai ciò che si richiede per realizzare questo fine che conduce alla pace perpetua. Certo per questo scopo non è sufficiente la volontà di tutti i singoli uomini di vivere in una costituzione legale secondo i principi della libertà, l'unità distributiva del volere di tutti, ma che tutti insieme vogliano questa condizione, l'unità collettiva delle volontà riunite. Proprio la soluzione di questo difficile problema viene richiesta perché la società civile diventi una totalità. E dato dunque che al di sopra di questa diversità del volere particolare di tutti deve aggiungersi una causa unificante di questo volere per produrre una volontà comune, cosa che però nessuno dei tutti è in grado di fare, allora nell'esecuzione di quell'idea, nella pratica, non si può contare su nessun altro inizio che quello della violenza, sulla cui costrizione poi viene fondato il diritto pubblico. Una cosa questa, certo, che, poiché si può fare ben poco affidamento sulla disposizione morale del legislatore di concedere, dopo l'avvenuta unificazione della massa informe in un popolo, solo a quest'ultimo il compito di realizzare una costituzione legale attraverso la volontà generale, già lascia subito prevedere in anticipo, nell'esperienza reale, grandi deviazioni dalla teoria. Qui si dirà allora Chi riesce a prendere in mano il potere non si lascerà dettare legge dal popolo. Uno Stato che è già in grado di non essere soggetto ad alcuna legge esterna riguardo al modo in cui deve pretendere il suo diritto nei confronti degli altri Stati non vorrà dipendere da un loro tribunale. E anche una parte del mondo, se si sente superiore a un'altra, che del resto non le è di nessun ostacolo, non mancherà di utilizzare per il rafforzamento della sua potenza il mezzo della rapina o addirittura della conquista. E così tutti i progetti della teoria del diritto politico, del diritto internazionale e del diritto cosmopolitico svaniscono in ideali vuoti e irrealizzabili, mentre la pratica, che è fondata su principi empirici della natura umana e che non considera degradante trarre insegnamento per le sue massime dal modo in cui vanno le cose nel mondo, è l'unica che può sperare di trovare un fondamento sicuro per il suo edificio della prudenza politica. Certo, se non c'è libertà né una legge morale fondata su di essa, ma tutto quello che accade o può accadere è semplicemente meccanismo della natura, allora la politica, in quanto arte di utilizzare questo meccanismo per il governo degli uomini, rappresenta tutta quanta la saggezza pratica e il concetto di diritto un pensiero senza sostanza. Ma se invece si trova che questo concetto sia assolutamente da collegare alla politica per innalzarlo addirittura a condizione limitativa di quest'ultima, allora bisognerà ammettere la loro conciliabilità. Io posso ben immaginarmi un politico morale, un politico cioè che prende i principi della prudenza politica in modo che possano convivere con la morale, non però un moralista politico che si foggia una morale in funzione delle convenienze dell'uomo di Stato. Il politico morale adotterà come principio che se vengono individuati difetti nella Costituzione o nei rapporti con altri Stati che non si sono potuti evitare prima, si ha allora il dovere, soprattutto per i capi di Stato, di preoccuparsi di come essa possa venire migliorata il più presto possibile e adeguata al diritto di natura. Così come questo, nell'idea della ragione, ci sta davanti agli occhi da modello, anche se ciò dovesse costare sacrifici per il loro egoismo. Ora, dato che la rottura di un vincolo dell'unione politica o cosmopolitica prima che sia pronta a entrare al suo posto una Costituzione migliore è contraria a ogni prudenza politica, concorde in questo con la morale, sarebbe allora assurdo esigere che quei difetti debbano venire eliminati subito e con violenza. Questo però si può chiedere a chi detiene il potere, che almeno abbia sempre presente nel suo spirito la massima della necessità di un tale cambiamento per rimanere in costante avvicinamento allo scopo, la Costituzione migliore secondo le leggi del diritto. Uno Stato può governarsi già in forma repubblicana, anche se, secondo la Costituzione in vigore, abbia ancora un potere sovrano dispotico, finché il popolo diventi gradualmente capace di subire l'influenza della semplice idea dell'autorità della legge, proprio come se possedesse forza fisica, e sia poi trovato all'altezza di legiferare da sé, cosa che originariamente è fondata sul diritto. Anche se una più legittima Costituzione fosse stata conquistata in modo illegittimo con la violenza di una rivoluzione prodotta da una Costituzione difettosa, tuttavia, anche in questo caso, non dovrebbe essere più considerato lecito portare di nuovo il popolo alla Costituzione precedente, benché chiunque, durante la rivoluzione, vi abbia preso parte con la violenza o l'inganno, sarebbe giustamente sottoposto alla pena riservata ai ribelli. Per quanto riguarda però le relazioni esterne degli Stati, non si può pretendere da uno Stato che rinunci alla sua purdispotica Costituzione, che però rispetto al nemico esterno è la più forte, fino a quando esso corre il rischio di venire subito inghiottito dagli altri. Quindi, malgrado quel proposito, deve essere però concesso il rinvio dell'esecuzione a tempo migliore. Può sempre accadere che i moralisti dispotizzanti che sbagliano nella pratica contravvengano in vario modo alla prudenza politica, con misure prese o annunciate affrettatamente. L'esperienza, però, pur in questo loro andare contro la natura, non può non portarli poco alla volta su una strada migliore. Al contrario, i politici moralizzanti, mascherando principi politici contrari al diritto sotto il pretesto di una natura umana incapace del bene, secondo l'idea che prescrive la ragione, rendono impossibile, per quanto sta a loro, ogni miglioramento ed eternizzano la violazione del diritto. Al posto della pratica, di cui questi politicanti esperti tanto si vantano, essi hanno a che fare con dei sotterfugi e preoccupandosi soltanto di esaltare il potere ora dominante per seguire i propri privati interessi, sacrificano il popolo e, se fosse possibile, il mondo intero. Come fanno i giuristi puri, che lo sono per mestiere, non perché i legislatori, quando si avventurano nella politica. Infatti, dato che non è a fare loro quello di ragionare sulla legislazione, ma è quello di eseguire ciò che ordina attualmente il codice civile. Ogni costituzione legale presentemente in vigore, e se questa viene cambiata dall'alto quella successiva, non può non presentarsi ai loro occhi come la migliore, dove tutto allora è nel suo appropriato ordine meccanico. Ma se questa loro abilità di mantenersi in sella in ogni circostanza li fa illudire di poter giudicare anche sui principi di una costituzione politica in generale, secondo concetti del diritto, quindi a priori, non empiricamente, se essi poi si gloriano di conoscere gli uomini, cosa che ci si può bene aspettare da loro, dato che sono molti gli uomini con cui hanno a che fare, senza però conoscere l'uomo e cosa si può fare di lui, per questo è necessario un più alto punto di vista dell'osservazione antropologica, e se sulla scorta di questi concetti affrontano il diritto pubblico e il diritto internazionale come li prescrive la ragione, allora essi possono fare questo passaggio non altrimenti che con lo spirito della vessazione, perché anche qui applicano il loro metodo abituale di un meccanismo che segue le leggi costrittive imposte dispoticamente, mentre i concetti della ragione accettano esclusivamente una costrizione legale basata solo sui principi di libertà, attraverso la quale è soltanto possibile una costituzione politica legittimamente duratura. Questo è un compito che il preteso pratico pensa di risolvere trascurando quell'idea empiricamente sulla base dell'esperienza di come erano fondate le costituzioni politiche finora più solide, per la maggior parte però contrarie al diritto. Le massime che utilizza questo scopo, anche se non le dichiara apertamente, si riconducono più o meno alle seguenti massime sofistiche. 1. FAC et EXCUSA Cogli l'occasione favorevole per l'usurpazione di un diritto dello Stato sul suo popolo o su un popolo vicino. Dopo il fatto, la giustificazione potrà essere più facile e più elegante e la violenza, soprattutto nel primo caso in cui il potere supremo all'interno è immediatamente anche l'autorità legislativa alla quale si deve obbedire senza fare tanti ragionamenti, si lascerà mascherare meglio che volendo preoccuparsi prima di fornire argomenti convincenti e per giunta attendere le repliche. è questa stessa audacia a dare una qualche apparenza di intima convinzione della legittimità del fatto e il dio bonus eventus costituirà poi il migliore rappresentante del diritto. Dei mali che tu stesso hai fatto portando per esempio il tuo popolo alla disperazione e così alla rivolta nega di essere tu il colpevole e afferma invece che la colpa sia dello spirito di insubordinazione dei sudditi o nella conquista di un popolo vicino della natura dell'uomo che se non previene con la forza un altro può essere sicuro che questi lo preverrà e lo conquisterà. 3. Divide e timpera ossia se nel tuo popolo ci sono capi particolarmente potenti che ti hanno scelto come loro supremo capo primus inter pares dividili allora l'uno dall'altro e mettili contro il popolo prendi poi le parti di quest'ultimo con la lusinga di una maggiore libertà e tutto dipenderà dalla tua incondizionata volontà se si tratta di stati stranieri il fomentare la discordia tra loro è un mezzo assolutamente sicuro per assoggettarli a te uno dopo l'altro presentandoti apparentemente come il difensore del più debole queste massime politiche è vero non ingannano nessuno infatti sono già universalmente note e non è più neanche il caso di vergognarsene come se l'ingiustizia apparisse già palese davanti agli occhi le grandi potenze infatti non temono il giudizio della massa comune si vergognano solo l'una rispetto all'altra ma per quanto riguarda quei principi ciò che può far provare vergogna non è il loro venire a resi pubblici ma solo la loro mancata riuscita infatti riguardo alla moralità delle massime sono tutti perfettamente d'accordo così a loro resta sempre l'onore politico sul quale possono sicuramente contare l'onore cioè di aver ingrandito la loro potenza qualsiasi strada sia stata percorsa per arrivare a questo risultato da tutte queste contorsioni di serpente fatte da una teoria immorale della prudenza per cavare fuori lo stato di pace tra gli uomini da quello di guerra dello stato naturale risulta chiaro almeno che gli uomini tanto nei loro rapporti privati quanto nei loro rapporti pubblici non riescono a sottrarsi al concetto di diritto e non osano fondare la politica pubblicamente solo sugli artifici della prudenza e rifiutare così ogni obbedienza al concetto di diritto pubblico cosa sorprendente soprattutto nel concetto del diritto internazionale ma al contrario gli rendono tutti gli onori che gli spettano dovessero anche escogitare cento scappatoie e mascheramenti per sottrarsi a esso nella pratica e per attribuire a torto alla violenza scaltrita l'autorità di essere l'origine e il vincolo di ogni diritto per porre fine a tutti questi sofismi se non all'ingiustizia che essi mascherano e per far confessare ai falsi rappresentanti dei potenti della terra che non è il diritto ma la violenza che essi sostengono e della quale assumono anche il tono proprio come se qui anche loro avessero qualcosa da comandare sarà bene smontare l'illusione che inganna sé e gli altri e scoprire il supremo principio da cui deriva l'intenzione della pace perpetua e mostrare che tutto il male che si fa per ostacolarla prende le mosse dal fatto che il moralista politico comincia là dove giustamente finisce il politico moralista e che egli proprio subordinando così i principi allo scopo mettendo cioè il carro davanti ai buoi rende vana la propria intenzione di conciliare la politica con la morale per mettere la politica pratica ad accordo con se stessa è necessario prima di tutto risolvere la questione se nei compiti propri della ragione pratica si debba prendere inizio dal principio materiale di essa lo scopo come oggetto dell'arbitrio o dal principio formale cioè da quel principio posto solo sulla libertà nel rapporto esterno che dice così agisci in modo tale da poter volere che la tua massima debba diventare una legge universale qualsiasi sia lo scopo della tua azione non c'è dubbio che debba venire prima quest'ultimo principio infatti in quanto principio del diritto esso ha una necessità assoluta mentre al contrario il primo principio è necessitante solo presupponendo certe condizioni empiriche dello scopo prefisso e cioè il suo raggiungimento e se questo scopo per esempio la pace perpetua fosse anche un dovere allora esso stesso dovrebbe però venire dedotto dal principio formale delle massime nell'agire esterno ora il primo principio quello del moralista politico il problema del diritto pubblico del diritto internazionale e del diritto cosmopolitico è semplicemente un compito tecnico problema technicum il secondo al contrario in quanto principio del politico morale per il quale esso è un compito etico problema morale è infinitamente diverso dall'altro nel metodo di costruire la pace perpetua che qui non si desidera semplicemente come un bene fisico ma anche come una condizione che nasce dal riconoscimento del dovere per la soluzione del primo problema quello della prudenza politica viene richiesta una grande conoscenza della natura per utilizzare il suo meccanismo verso il fine desiderato e ciò non di meno tutta questa conoscenza è incerta sul suo risultato per quanto riguarda la pace perpetua qualunque dei tre campi del diritto pubblico si consideri non si può sapere con certezza se all'interno di uno stato per riuscire a mantenere per un lungo periodo il popolo in obbedienza e insieme in prosperità siano meglio la severità o le esche della vanità la sovranità di uno solo o l'unione di molti capi o forse anche soltanto una classe di funzionari della nobiltà o il potere popolare di tutti i tipi di governo la storia ci fornisce esempi contraddittori eccettuato l'unico governo repubblicano puro che però può venire in mente solo a un politico moralista ancora più incerto un preteso diritto internazionale istituito in base a statuti concepiti secondo piani ministeriali e che nei fatti è solo una parola senza contenuto e si poggia su trattati che nello stesso atto che li ratifica contengono anche la riserva della loro violazione al contrario la soluzione del secondo problema quello della saggezza politica si impone per così dire da sé è chiara a tutti e annulla qualsiasi artificio conduce diritto allo scopo però tenendo presente la prudenza di non tirarlo a sé affrettatamente con la violenza ma di avvicinarsi a esso senza sosta secondo la natura delle condizioni favorevoli si dovrà allora dire ricercate prima di tutto il regno della ragione pratica pura e la sua giustizia così il vostro fine il beneficio della pace perpetua vi arriverà da sé infatti proprio questo ha di specifico la morale e precisamente a riguardo dei suoi principi di diritto pubblico quindi in relazione a una politica conoscibile a priori che meno fa dipendere la condotta dallo scopo prefisso dal vantaggio fisico o morale che si ha in vista e più invece essa concorda con questo in generale ciò deriva dal fatto che è proprio la volontà universale data a priori in un popolo o nel rapporto di diversi popoli tra loro a determinare unicamente cosa tra gli uomini è conforme al diritto ma questa unificazione della volontà di tutti a patto che si proceda nella messa in pratica in modo conseguente anche secondo il meccanismo della natura può essere insieme la causa che produce gli effetti desiderati e che dà efficacia al concetto così per esempio è un principio della politica morale che un popolo si debba unire in stato secondo i soli concetti di diritto della libertà e dell'eguaglianza e questo principio non è fondato sulla prudenza ma sul dovere per quanto i moralisti politici possano continuare a opporre a ciò i loro ragionamenti sul meccanismo di natura di una massa di uomini riuniti in società che toglierebbe ogni forza a quei principi e ne vanificherebbe le intenzioni o per quanto cerchino di provare le loro affermazioni contrarie con esempi di costituzioni organizzate male in età antiche e moderne per esempio democrazie senza sistema rappresentativo costoro non meritano nessun ascolto innanzitutto perché una teoria così negativa è essa stessa a produrre il male che predice una teoria secondo cui l'uomo viene gettato in un'unica classe insieme alle altre macchine viventi alle quali basterebbe la coscienza di esseri non liberi per rendersi nel loro stesso giudizio i più miserevoli di tutti gli esseri del mondo c'è un detto dal suono certo un po' fanfaronesco che ormai circola come proverbio e che tuttavia è vero fiat giustizia periat mondus che significa in lingua regni la giustizia dovessero anche perire tutti i bricconi del mondo ed è un eccellente principio del diritto che elimina tutte le strade storte previste dall'inganno e dalla violenza a patto però che non venga frainteso cioè come un permesso di utilizzare il proprio diritto con la massima severità il che contrasterebbe con il dovere etico e che venga invece inteso come obbligo dei potenti di non rifiutare o di non limitare a nessuno il suo diritto a causa di un'avversione o compassione per altri ma per questo occorrono prima di tutto una costituzione interna istituita secondo i puri principi del diritto e poi però anche un'intesa di questo stesso stato con gli altri vicini o anche lontani per arrivare alla soluzione legale delle controversie come se ciò avvenisse in uno stato universale questo detto non significa altro che le massime politiche non devono partire dal benessere o dalla felicità che bisogna attendersi dalla loro applicazione per ogni singolo stato non quindi dallo scopo che ognuno di essi si fa oggetto del volere in quanto supremo ma empirico principio della saggezza politica ma invece dal puro concetto del dovere del diritto dal dovere il cui principio è dato a priori dalla pura ragione quali che possano essere le conseguenze fisiche il mondo non perirà affatto se gli uomini cattivi saranno di meno il male morale ha la proprietà inseparabile dalla sua natura di contrariarsi e di distruggersi da sé nelle sue intenzioni soprattutto in rapporto con altri ugualmente cattivi facendo così posto al principio morale del bene seppure con un progresso lento dunque oggettivamente nella teoria non esiste affatto contrasto tra la morale e la politica soggettivamente invece nella proprensione egoistica degli uomini la quale però non essendo fondata su massime della ragione non deve ancora venire chiamata pratica praxis questo contrasto esisterà e potrà sempre esistere in quanto serve da incentivo alla virtù il cui vero coraggio secondo il principio tu ne cede malis sed contra audenzio rito in questo caso non consiste tanto nel resistere con saldo proposito ai mali e ai sacrifici che qui si devono accettare ma nel guardare negli occhi il principio del male dentro di noi e nel vincere la sua perfidia quel principio molto più pericoloso ingannevole e traditore eppure capace di ragionamenti sottili nella sua pretesa di giustificare con la debolezza della natura umana qualsiasi trasgressione in effetti il moralista politico può dire i governanti e il popolo oppure un popolo e l'altro non si fanno torto reciprocamente se si combattono con la violenza e l'inganno anche se il torto che in generale commentono stia nel rifiutare ogni rispetto del concetto di diritto che solamente potrebbe fondare per sempre la pace infatti dato che l'uno calpeste il suo dovere verso l'altro che a sua volta ha verso il primo la medesima disposizione d'animo di ingiustizia allora se si distruggono a vicenda questo è pienamente giusto che capiti sia all'uno sia all'altro a condizione però che di questa razza ne resti sempre a sufficienza perché questo gioco non possa mai finire anche in tempi lontani e la posterità possa in loro trovare un esempio che sia da monito la provvidenza è quindi giustificata nel corso del mondo infatti il principio morale nell'uomo non si spegne mai la ragione pragmaticamente capace di attuare le idee del diritto secondo quel principio cresce senza posa con il progredire della civiltà con essa però anche la colpa per quelle trasgressioni solo la creazione che cioè una simile razza di perversi abbia dovuto in generale venire al mondo sembra non poter venire giustificata da nessuna teodicea se supponiamo che il genere umano non diventerà ne potrà mai diventare migliore ma giudicare da questo punto di vista è cosa per noi troppo alta per poter attribuire nella prospettiva teoretica i nostri concetti di saggezza alla potenza suprema per noi inindagabile a queste conseguenze estreme siamo necessariamente portati se non ammettiamo che i principi puri del diritto abbiano una realtà oggettiva che si lasciano cioè attuare e che si debba anche agire in loro conformità sia da parte dello Stato sia da parte del popolo all'interno dello Stato e inoltre da parte degli Stati l'uno rispetto all'altro qualsiasi cosa abbia da obiettare la politica empirica la vera politica quindi non può fare nessun passo avanti senza prima aver reso omaggio alla morale e benché la politica in se stessa sia una difficile arte tuttavia non è affatto una tecnica la sua unione con la morale infatti è questa che taglia il nodo che quella non è capace di sciogliere appena l'una e l'altra entrano in conflitto il diritto degli uomini deve essere considerato sacro per quanto grande sia il sacrificio da pagare per il potere dominante qui non si possono fare le cose a metà e inventare un termine intermedio di un diritto condizionato pragmaticamente tra diritto e utile ma ogni politica deve piegare le ginocchia davanti al diritto e può però in cambio sperare di raggiungere seppure lentamente quello stadio in cui splenderà senza pausa 2 dell'accordo della politica con la morale secondo il concetto trascendentale del diritto pubblico se io astrago da tutta la materia del diritto pubblico così come i giuristi abitualmente se lo immaginano secondo i diversi rapporti empiricamente dati degli uomini in uno stato o degli stati tra loro allora quello che mi resta è la forma della pubblicità di cui ogni pretesa giuridica contiene in sé la possibilità poiché senza di quella non ci sarebbe alcuna giustizia la quale può essere pensata solo come conoscibile pubblicamente e nemmeno quindi alcun diritto il quale viene concesso solo dalla giustizia questa capacità di pubblicità deve essere posseduta da ogni pretesa giuridica e dato che è del tutto facile giudicare se essa in un determinato caso abbia luogo cioè se si possa conciliare o no con i principi della gente può quindi fornire un criterio facile da usare e rintracciabile a priori nella ragione per riconoscere subito per così dire con un esperimento della ragione in caso negativo la falsità illegalità della pretesa concepita pretensio iuris dopo aver fatto astrazione da ogni elemento empirico che il diritto dello Stato e il diritto internazionale contengono per esempio la malvagità della natura umana che rende necessaria la costrizione si potrà definire la proposizione seguente come la formula trascendentale del diritto pubblico tutte le azioni relative al diritto degli altri uomini la cui massima è incompatibile con la pubblicità sono ingiuste questo principio non deve essere semplicemente considerato solo come etico appartenente alla dottrina della virtù ma anche come giuridico riguardante il diritto degli uomini infatti una massima che io non posso portare a pubblicità senza che con questo sia contemporaneamente vanificata la mia intenzione che deve invece essere tenuta assolutamente segreta per riuscire e che io non posso confessare pubblicamente senza provocare con questo l'opposizione di tutti al mio proposito una simile massima non può produrre questa generale necessaria resistenza se non per l'ingiustizia di cui essa minaccia ognuno questo principio inoltre è semplicemente negativo serve cioè solo a riconoscere per suo tramite cosa non è giusto rispetto agli altri è uguale a un assioma evidente senza dimostrazione e per di più di facile applicazione come ci si può rendere conto da questi esempi di diritto pubblico 1 per quanto riguarda il diritto politico ius civitatis quello interno cioè si pone la seguente questione che molti ritengono difficile da sciogliere e che il principio trascendentale della pubblicità risolve con assoluta facilità l'insurrezione è un mezzo legittimo per un popolo al fine di liberarsi dal potere oppressivo di un cosiddetto tiranno non titolo sed esercizio talis i diritti del popolo sono violati e a lui al tiranno non viene fatto alcun torto spodestandolo su questo non c'è alcun dubbio ciò non di meno è estremamente ingiusto da parte dei sudditi cercare il loro diritto in questo modo e tantomeno potrebbero lamentarsi di subire ingiustizia se in questa lotta soccombessero e dovessero poi ricevere la condanna più dura qui si possono fare molti sottili ragionamenti a favore o contro se si vuole affrontare la cosa con una deduzione dogmatica delle ragioni del diritto solo il principio trascendentale della pubblicità del diritto pubblico può risparmiare queste prolissità secondo questo principio il popolo si dovrebbe chiedere prima dell'istituzione del patto civile se ardire tanto da rendere pubblicamente nota la massima del piano di un'eventuale rivolta è facile capire che se istituendo una costituzione politica si volesse porre la condizione di esercitare la violenza in certi casi particolari contro il capo supremo il popolo dovrebbe pretendere un potere legittimo su di lui allora egli non sarebbe più l'autorità sovrana ovvero sia se si giudicassero queste due condizioni necessarie per la fondazione di uno stato essa non sarebbe più possibile ma proprio questa era l'intenzione del popolo la fondazione dello stato il torto della ribellione si manifesta quindi nel fatto che la sua massima se la si dichiarasse pubblicamente renderebbe impossibile la propria intenzione si dovrebbe dunque tenere segreta questo però non sarebbe ugualmente necessario per il sovrano egli può dichiarare liberamente che punirà ogni insurrezione con la morte dei capi della rivolta per quanto questi possano credere che sia stato lui a violare per primo la legge fondamentale infatti se egli è consapevole di possedere il potere supremo incontrastabile cosa che deve essere supposta anche in qualsiasi costituzione civile poiché chi non ha sufficiente potere per proteggere rispetto all'altro un qualunque individuo del popolo non ha neppure il diritto di comandarlo non ha quindi da preoccuparsi di vanificare la sua propria intenzione rendendola pubblica cosa che implica molto chiaramente che se l'insurrezione del popolo riuscisse questo sovrano dovrebbe ritornare alla posizione di suddito e non tentare di riprendere con la forza il potere ma neanche avere da temere di essere messo sotto accusa per la sua precedente guida dello Stato 2 per quanto riguarda il diritto internazionale solo sul presupposto di un qualche Stato giuridico cioè di quella condizione esterna per la quale all'uomo può realmente toccare un diritto si può parlare di un diritto internazionale poiché esso in quanto diritto pubblico contiene già nel suo concetto la dichiarazione di una volontà generale che stabilisce a ognuno il suo e questo status juridicus deve scaturire da un qualche patto e non può essere fondato diversamente da quel patto da cui origine lo Stato su leggi di costrizione ma deve piuttosto essere il patto di un'associazione libera e permanente come quella sopradetta della federazione di diversi stati infatti fuori da un qualche stato giuridico che lega attivamente le diverse persone fisiche e morali non potrebbe esserci altro che un semplice diritto privato interviene qui anche un conflitto della politica con la morale considerata questa come dottrina del diritto rispetto al quale quel criterio della pubblicità delle massime trova ugualmente la sua facile applicazione alla condizione però che il patto unisca gli stati soltanto nell'intenzione di mantenere la pace tra loro e insieme verso altri stati e non invece per fare annessioni si presentano allora i seguenti casi di antinomia di politica e morale ai quali si accompagna però contemporaneamente il loro superamento a se uno di questi stati ha promesso qualcosa all'altro se tratti di aiuto o di cessione di qualche territorio o di sussidi si domanda se in un caso in cui fosse in questione la salvezza dello stato si possa rinunciare alla parola data affermando che esso deve essere considerato come una persona doppia prima come sovrano poiché nel suo stato non è responsabile di fronte a nessuno e poi però semplicemente come il più alto funzionario statale che deve rendere conto allo stato si deduce allora che quell'obbligo a cui si è legato nella prima qualità non sarà tenuto a rispettarlo nella seconda ma se uno stato o il suo sovrano rendesse pubblica questa massima sarebbe del tutto naturale che ogni altro stato lo evitasse o si unisse con altri per opporsi alle sue pretese ciò che dimostra che la politica con tutta la sua astuzia con questo metodo della lealtà non può non mancare il suo scopo e che quindi questa massima non può non essere ingiusta b se una potenza vicina cresciuta fino ad acquistare una formidabile grandezza potenzia tremenda genera preoccupazione si può supporre che vorrà anche opprimere perché lo può questo dà alla potenza minore un diritto ad aggredirla in coalizione anche senza che ci sia stata offesa precedente uno stato che volesse dichiarare pubblicamente la sua massima provocherebbe la sua rovina nel momento più sicuro e più rapido possibile infatti la potenza maggiore preverrebbe la più debole e per quanto riguarda la coalizione di quest'ultima si tratta semplicemente di un frustino contro chi sa utilizzare il divide e timpera questa massima della prudenza politica dichiarata in pubblico vanifica dunque necessariamente la sua intenzione ed è di conseguenza ingiusta c se uno stato più piccolo con la sua posizione rompe quella continuità territoriale di uno stato più grande che gli è necessaria per la sua conservazione questo questo non ha allora il diritto di assoggettarlo e di unirlo al suo territorio è facile da capire che questo grande stato non deve assolutamente dichiarare prima questa sua massima infatti o i piccoli stati si coalizzerebbero subito o altri stati potenti gli contenderebbero il bottino dunque con la sua stessa dichiarazione essa si rende impraticabile un segno questo che è ingiusta e che lo può anche essere in grande misura infatti se l'oggetto dell'ingiustizia è piccolo questo non impedisce che l'ingiustizia qui dimostrata sia molto grande 3 per quanto riguarda il diritto cosmo politico io lo passo qui sotto silenzio perché a causa della sua analogia con il diritto internazionale le sue massime sono facili da indicare e da valutare abbiamo trovato qui nel principio dell'incompatibilità delle massime del diritto internazionale con la pubblicità è vero un buon segno di riconoscimento della non concordanza della politica con la morale in quanto dottrina del diritto bisogna adesso venire a sapere però quale sia la condizione che permette di concordare le sue massime con il diritto delle genti infatti non possiamo dedurre all'inverso che quelle massime che si accordano con la pubblicità siano quindi anche giuste perché chi ha il potere decisivo può non fare mistero delle sue massime la condizione della possibilità di un diritto internazionale è in generale che esista prima uno stato di diritto infatti senza di esso non c'è alcun diritto pubblico ma qualsiasi diritto che si possa pensare fuori di esso nello stato di natura è semplicemente diritto privato ora abbiamo appena visto che una federazione di stati che si pone come obiettivo quello di allontanare la guerra è l'unico stato di diritto conciliabile con la loro libertà dunque la concordanza della politica con la morale è solo possibile in un'unione federativa che quindi secondo i principi del diritto è data a priori e necessaria e ogni prudenza politica ha per base giuridica l'istituzione di questa unione nell'estensione più ampia possibile senza il quale scopo tutta la sua sottigliezza è insipienza e ingiustizia mascherata questa falsa politica ha però la sua casistica che gareggia con la migliore scuola gesuitica la reservatio mentalis nella stipula di patti pubblici usa espressioni che si possono all'occasione interpretare a proprio vantaggio per esempio la distinzione tra status quo de fe e de droit il probabilismo ossia l'inventare cattive intenzioni negli altri e inoltre il fare della loro possibile superiorità la ragione di diritto per porre mano all'annientamento di altri stati pacifici e per finire il peccatum filosoficum peccatillum bagatelle ossia considerare l'assorbimento di un piccolo stato come una piccolezza facilmente perdonabile se in questo modo uno stato molto più grande vince nel supposto interesse superiore del mondo ciò che qui viene sfruttato è la doppiezza della politica nei riguardi della morale a utilizzare uno o l'altro ramo di essa per i propri scopi il dovere è tutte e due queste cose l'amore degli uomini e il rispetto per il diritto degli uomini il primo dovere però è solo condizionato il secondo invece incondizionato assolutamente imperativo ed è rispetto alla trasgressione di questo dovere che deve venire pienamente garantito chi vuole lasciarsi andare al dolce sentimento del fare del bene con la morale nel primo senso come etica la politica si concilia facilmente per consegnare il diritto degli uomini ai loro capi ma con la morale intesa nel secondo significato come dottrina del diritto rispetto alla quale essa dovrebbe inchinarsi preferisce non arrivare a nessun accordo negarle ogni realtà e interpretare tutti i doveri come pura magnanimità ma questa furbizia di una politica che ha paura della luce verrebbe facilmente vanificata dalla filosofia attraverso la pubblicità di quelle sue massime se la politica solo usasse permettere al filosofo di rendere pubbliche le sue in questa prospettiva io propongo un altro principio trascendentale e positivo del diritto pubblico la cui formula sarebbe questa tutte le massime che hanno bisogno per non fallire nei propri scopi della pubblicità si accordano con la politica e il diritto riuniti insieme infatti se esse non possono raggiungere i loro scopi che attraverso la pubblicità devono necessariamente essere conformi alla finalità generale del pubblico della felicità concordare con la quale è il vero compito della politica rendere il pubblico soddisfatto del proprio stato se però questa finalità deve essere raggiunta solo attraverso la pubblicità attraverso cioè il superamento di ogni diffidenza verso le massime allora queste massime non possono non trovarsi anche in accordo con il diritto del pubblico infatti solo in questo accordo è possibile l'unificazione degli scopi di tutti devo rinviare a un'altra occasione l'ulteriore sviluppo e approfondimento di questo principio ma che si tratta di una formula trascendentale lo si capisce dall'allontanamento di tutte le condizioni empiriche della dottrina della felicità come materia della legge e dalla sola considerazione della forma della legalità universale se c'è un dovere e se insieme a esso esiste una fondata speranza di rendere reale lo stato del diritto pubblico pur solo in una progressiva approssimazione all'infinito allora la pace perpetua che segue quelli che finora falsamente sono stati chiamati trattati di pace in realtà solo degli armistizi non è un'idea vuota ma un compito che risolto a poco a poco si fa sempre più vicino alla sua meta poiché i tempi in cui succedono progressi uguali diventano sperabilmente sempre più brevi di